Il personale della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare messa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di tre soggetti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa estorsione e tentate estorsione aggravate dalle modalità mafiose. Tra loro figura un imprenditore ritenuto in rapporti con il clan Mallardo di Giuliano in Campania, che secondo quanto emerso da indagini coordinate dalla DDA avrebbe imposto le estorsioni a suoi colleghi. Le altre due persone destinatari delle misure cautelari ritenute legate al clan Mallardo sono invece accusate di avere storto 90.000 euro ad un imprenditore di Lady Giuliano impegnato nella realizzazione di un complesso residenziale composto da 12 appartamenti.